La convention di Fratelli d'Italia arriva nel mezzo di una crisi di maggioranza in consiglio comunale con pochi spiragli di trattative per piazzare Forza Italia che oramai chiede la verifica. Biondi non riesce a placare i molti appetiti e già c'è Maretta per le candidature. Certo è che come la crisi di tre anni fa con la Lega il sindaco vuole tirare dritto. I suoi alleati rivendicano maggiore collegialità. Insomma non vogliono solo il famoso uomo al comando sindaco. Mai stato uomo solo al comando. Parlo frequentemente con i partiti, con i rappresentanti in consiglio comunale. Lo dimostra la compattezza che la maggioranza ha sempre espresso su tutti i passaggi cruciali quando serviva una risposta chiara da parte del consiglio comunale. D'altra parte non mi sembra che ci siano lamentele da parte di chi che sia rispetto all'attività amministrativa della giunta comunale e più in generale dell'amministrazione attiva consiglio compreso. Lei ritiene che sia un momento facile o meno questo che stiamo vivendo? Non ci sono mai momenti facili quando si amministra la cosa pubblica, in particolar modo quando si amministra una città come l'Aquila. Quindi serve sempre grande senso di responsabilità e bisogna capire che ogni azione ha delle conseguenze che potrebbero non essere capite dalla città. Fratelli d'Italia e Forza Italia sono partiti alleati che marciano insieme, che amministrano insieme la città. Se ci sono delle rivendicazioni vanno sottoposte e come ho detto bisogna sapere cosa c'è che non va, va descritto esattamente cosa c'è che non va, quali sono le soluzioni che si intendono proporre e quali sono le conseguenze che queste soluzioni portano. Il sindaco a disposizione e ascolta? Sempre. Grazie.